Stefano Callegari, il pizza man da record nonché star del web, è approdato nel centro storico di Martina Franca. Le creazioni dello chef romano, tra i pochi in Italia ad aver ottenuto gli ambiti tre spicchi nella guida a Gambero Rosso in più ristoranti, rappresentano un valore aggiunto per la promozione del territorio. Lo ha dichiarato l'assessore allo sviluppo economico di Martina Franca, Bruno Maggi, presente all'inaugurazione del ristorante. I prodotti pugliesi, come il capocollo di Martina Franca e la ricotta forte di Ceglie Messapica, accanto a eccellenze mondiali, come il caviale russo. La Valle d'Itria entra così nell'Olimpo delle pizze più buone d'Italia. Ho scelto questa terra, un po' sono stato scelto, quindi è una sorta di richiamo. E un po' l'ho sempre visitata da turista. E quindi, come c'è stata l'occasione, mi sono fiondato, insomma, Ennoci, Martina Franca, sono dei posti vocati per fare questo tipo di lavoro. Questo mi ha portato a conoscere ancora più prodotti di quelli che conoscevo prima, più produttori. Molte cose stanno in mano ad artigiani che tutti i giorni vanno alla ricerca di qualità, di sperimentazione. Un viaggio, dunque, attraverso la penisola e nel mondo. Un viaggio, dunque, attraverso la penisola e nel mondo.